Buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, mercoledì 14 di aprile. Le prime pagine dei giornali, come è accaduto e accadde per AstraZeneca, sono tutte legate al blocco, la sospensione del vaccino Johnson & Johnson che hanno deciso gli Stati Uniti e le ripercussioni inevitabilmente che ci sono anche in Italia, nel quale emergono anche però critiche alla gestione del piano vaccinale, sia per quanto riguarda la responsabilità delle regioni, ma anche inizia a intravedersi qualche polemica nei confronti del governo e del commissario Figliuolo. Poi c'è il tema del ministro della Salute, Speranza, che come ricorderete ieri in un articolo del Messaggero era messo in discussione attraverso fonti per quanto anonime che venivano all'interno del governo, oggi si riapre il tema in relazione all'inchiesta che riguarda l'OMS e il piano pandemico per l'Italia e torna su questo folli sulla Repubblica a proposito della possibile tenuta di speranza. Poi c'è tutto il tema delle riaperture collegato alle proteste che stanno continuando in Italia, ieri c'è stato il blocco del A1, poi ci sono state due manifestazioni, una a San Silvestro e una a Circo Massimo a Roma, insomma ci sono tante questioni da vedere, c'è ancora il dibattito nei partiti, in particolare oggi il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, ma si apre la discussione sulle amministrative che ci saranno a ottobre, in particolare su Roma, molto dello spazio politico è dedicato a questo. Poi vedremo questioni che riguardano anche la giustizia e poi la politica estera. Comincerei però dal tema del Johnson & Johnson, il titolo di apertura del Corriere della Sera è Vaccini, la nuova frenata e poi se andiamo nelle pagine interne abbiamo Giuseppe Sarcina che è il corrispondente da Washington del Corriere della Sera, l'America ferma Johnson & Johnson, 6 casi di trombosi su 6,8 milioni di dosi, cioè uno ogni milione. L'Europa si aspettava 55 milioni di fiale entro fine giugno e altri 120 milioni entro l'anno. Fauci dice pausa di pochi giorni, il parere di Nicola Magrini che è direttore dell'agenzia del farmaco AIFA che dice è la cautela massima, confidiamo nel via libera e però poi di spalla nella pagina 3 del Corriere della Sera c'è Fiorenza Sazzanini che parla del contraccolpo. L'Italia ha i timori per le conseguenze sulla campagna, l'ipotesi di riservarlo a chi ha oltre 60 anni. Il ministro Speranza prenderemo la via migliore ma penso che anche questo farmaco dovrà essere utilizzato. Adesso diciamo questi farmaci, AstraZeneca agli over 60, Johnson agli over 60, scherzo ma neanche troppo, insomma rimane poi il problema a chi fare gli altri, agli under 60, quali li facciamo ma va bene. Repubblica, vediamo anche in questo caso sono le pagine successive alla prima con un titolo di apertura ancora più esplicito, vaccini USA, sospeso Johnson & Johnson e poi un virgolettato l'Italia non si fermerà. Se andiamo poi nelle pagine interne, Michele Bocci a pagina 2 dice Johnson & Johnson, lo stop usa, ferma anche l'Unione Europea, ma l'Italia vuole andare avanti. Sei casi di trombosi negli Stati Uniti, uno dei quali letale. L'azienda decide di rinviare le consegne in Europa, arrivate e bloccate a pratica di mare le prime 184 mila di dosi. E ancora Speranza valuteremo ma è importante usarlo. Peraltro se andiamo, torna il tema con Tommaso Ciriaco, il retroscena di pagina 3, lo daremo solo agli over 60, il piano cambia ancora con l'incognita cinquantenni. A pagina 4 però c'è un'intervista all'ex direttore dell'Ema Rasi che dice niente panico, quel farmaco efficace eviterà migliaia di morti, mille comportamenti quotidiani sono più pericolosi, dal salire in auto al prendere la pillola, finora i casi sospetti gravi o fatali sono 1 su 3 milioni. Insomma, tra l'altro c'è sempre Michele Bocci che sulla Repubblica, qui nel taglio basso, nella rubrica domande e risposte, dice vaccini a vettore virale o a RNA, perché entrambi sono affidabili. Dopo AstraZeneca anche Johnson & Johnson si ferma per le rarissime segnalazioni di trombosi, ma perché sono colpiti per lo più under 60 l'ipotesi di una reazione immunologica al virus inattivo che viene iniettato nell'organismo. Così ci dice la Repubblica, anche la stampa, l'altro giornale nazionale, a pagina 3 riporta un'intervista di Paolo Russo a Giuseppe Ippoliso, che è il direttore scientifico dell'Istituto Spadanzani, oltre che membro del CTS, e dice allarmismo ingiustificato, benefici superiori ai rischi, acceleriamo le seconde dosi. E dice ancora, tra 60 e 69 anni finire in rianimazione è 640 volte più probabile di un evento grave post-AstraZeneca. Chi ha già ricevuto la prima iniezione non dovrebbe avere nessun problema con il richiamo. Questo è quello che dice Ippolito, perché è chiaro che come è successo per AstraZeneca, e poi è anche normale, è comprensibile se la comunicazione viene veicolata male, che poi le persone si preoccupino, perché come quelli che devono fare o il richiamo a AstraZeneca o per la prima volta a AstraZeneca, sono un po' titubanti, a voglia spiegare, io sono assolutamente d'accordo, i casi, uno su tre milioni, è del tutto evidente che nella nostra vita quotidiana rischiamo molto di più in qualunque cosa facciamo, però poi concretamente valla a spiegare la gente, insomma. segnalo su questo anche il messaggero a pagina 2, che dice solo 6 casi su 7 milioni e gli USA bloccano Johnson & Johnson, ma l'Italia dice va utilizzato e anche qui c'è l'intervista Silvio Grattini, che è il decano della farmacologia italiana, che dice i timori sono del tutto sproporzionati, è più probabile morire cadendo dal letto. Sì, questo siamo d'accordo, tutti pensano è la stessa cosa, però diciamo se poi la comunicazione viene data in un determinato modo, vabbè. Vediamo allora però il piano vaccino italiano, perché qui abbiamo alcuni giornali, in particolare la stampa a pagina 2, ecco qua, Draghi cambia piano, dal 2022 solo Pfizer e Moderna, non saranno rinnovati i contratti ai farmaci al vettore virale, penalizzati a AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik e l'italiana Reitera, destinati solo agli over 60. Questo è quello che, diciamo così, dovrebbe cambiare il piano del governo per gli anni da 2022 e se andiamo sul giornale a pagina 9, traballa il piano figliuolo maggio e giugno decisivi e qui invece vediamo quello che dovrebbe riguardare il 2021, il commissario dice in tre mesi 45 milioni di dosi, ma tra stop, ritardi e psicosi i numeri rischiano, e vabbè, è inevitabile che questo accada. Andiamo sul, per quanto riguarda i vaccini in Italia, andiamo a pagina 4 del messaggero, over 80, il Lazio finirà il 30, la Sicilia solo tra un mese, la babele dei cargiver, nell'isola il 46% degli anziani non si è prenotato, il problema dell'accesso al web, accompagnatori dei fragili, la Lombardia prevede 850 mila iniezioni, la Toscana 30 mila. Insomma, poi tra l'altro il messaggero viene data informazione che per quanto riguarda il lavoro, profilassi sul lavoro le regole dell'Ina e le strutture potranno vaccinare anche dipendenti di altre aziende. Insomma, vedete che in Italia inevitabilmente poi con il taglio e con il fermo di questi vaccini ci si, inevitabilmente ci si inficcia pure in Italia. A questo proposito voglio segnalarvi l'editoriale di Parisi, di Vittorio Parisi sul messaggero, lotta al virus e l'eccesso di cautele, inizia a prima pagina, poi va a pagina 18, da lì lo prendiamo e tra l'altro dice il piano vaccinale italiano subirà un nuovo ritardo dopo quello dovuto alla sistematica violazione degli impegni assunti contrattualmente da parte delle aziende farmaceutiche, AstraZeneca su tutte, ma anche Pfizer. Fornirà alibi a chi pensa di poter disobbedire impunemente alle disposizioni del governo centrale, alimenterà la corsa disordinata dei governi dell'Unione europea all'illusione che esistano soluzioni individuali, favorirà la campagna di chi contrappone le ragioni della sicurezza a quelle della ripresa economica, gonfierà le vele di chi non crede nella scienza e preferisce affidarsi a santini, santoni e intrugli. Potrebbe aggravare le conseguenze sanitarie ed economiche della pandemia e persino pregiudicare la tenuta del governo della sua maggioranza, Arlecchino. Gli Stati Uniti, dall'alto di una ponoplia di vaccini disponibili, stanno effettuando una campagna vaccinale dall'efficacia e invidiabile, nonostante una classe politica non certo qualitativamente migliore delle nostre, alle prese con porzioni cospicue di elettorato che credono ai complotti e al creazionismo, iperpolarizzati politicamente con un assetto federale al cui confronto il nostro regionalismo è niente. Ma noi italiani ed europei rischiamo di pagare un prezzo enorme all'evidenza che una pandemia globale non può essere combattuta e men che meno vinta in assenza di coordinamento, a tutti i livelli, a cominciare da quello nazionale, altro che De Luca e Fontana, passando per quello europeo che ha dimostrato infinite debolezze e per quello occidentale, cioè dei paesi ricchi e democratici. A cosa servono i vertici tra i leader europei allargati al presidente Biden? A cosa serve il G7 se non adotarsi di un minimo di coordinamento tra paesi amici ed alleati? Non sto sostenendo che le informazioni andassero taciute all'opinione pubblica, ma affermo che accettare la logica ordinaria della massima precauzione come se non fossimo in stato di guerra contro la pandemia non ha alcun senso, mentre c'è chi invoca la condizione di emergenza per allentare i controlli all'antimafia nel paese che ha inventato l'una e gli altri come europei occidentali. Assistiamo al desolante spettacolo di una politica incapace di assumersi le proprie doverose responsabilità, quella di stabilire qual è tra due rischi, il rischio minore, il più accettabile nella lotta alla pandemia, un rischio che per l'Italia e l'Europa è oggettivamente diverso che per gli Stati Uniti, così Parisi sul messaggero a proposito dei vaccini, gli stop ai vaccini e l'incidenza anche sulle decisioni che si prendono in Italia. Andiamo avanti perché sul tema degli altri vaccini e di quello che potrebbe accadere è il Corriere della Sera, pagina 5, che ci dice allo studio una ventina di vaccini, la svolta usare la proteina del virus. È Adriana Bazzi che ce ne parla, parlando con l'immunologo Forni dell'Accademia dei Lincei che dice che i preparati in sperimentazione sono a metà strada tra tradizionali e generici. Insomma, ci saranno, sono allo studio, una ventina di vaccini che usano però la proteina del virus. C'è però un problema che riguarda anche i falsi vaccini, ce lo parla a pagina 3 il messaggero, il racket dei falsi Pfizer, Interpol lancia l'allarme, in Messico sequestrate le prime dosi contraffatte, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che è pericoloso, e te credo, dico io, in Europa indagini sulla Polonia, broker alla ricerca di confezioni del vaccino USA. Questo è quello che accade pure, perché poi queste cose creano anche questo mercato parallelo. Guardate, a proposito dei vaccini, voglio segnalarvi, sta con una fotonotizia, con un delirio. Che cosa succede? Che il fidanzato di Maria Elena Boschi, Giulio Berruti, che se non fosse il fidanzato di Maria Elena Boschi ovviamente non avrebbe avuto nessun tipo di attenzione dai giornali, polemica per il vaccino al fidanzato della Boschi, Berruti, ha 36 anni. Poi si segnala, fa l'attore, virgola, ma pure il dentista. Cioè Berruti è un odontoiatra che svolge la sua professione di odontoiatra, oltre a fare l'attore. E come tutti gli odontoiatri, come tutti quelli che, tra l'altro è anche abbastanza comprensibile, perché se pensiamo i dentisti come sono a contatto con le persone, è del tutto evidente che vengono, come tutto il personale sanitario, vengono vaniccinati anche se hanno 35 anni. Ovviamente questo non crea problemi, diciamo, siccome si sono giustamente urtati gli psicologi. Ora penso che lo psicologo stia a diretto contatto col paziente, meno di quanto non ci stia l'odontoiatra che gli sta praticamente addosso. E' del tutto evidente che facciano parte del personale medico infermieristico che va vaccinato con priorità. Ovviamente che succede? Che siccome quello è il fidanzato della Boschi, scandalo, le notizie, la fotonotizia, le polemiche sul fatto che è stato vaccinato Berruti. Ma questo lo dico perché è proprio per come vanno le cose in Italia. Se fosse stato il fidanzato non so di chi, di chiunque altra sarebbe stata la stessa cosa, di qualunque altra parlamentare. Va bene. Però ci sono due cose che riguardano... Il Corriere da Sera ci dice come si è trasformato il virus nella seconda ondata. Quali sono le conseguenze? E' Cristina Marrone che ce ne parla spostatezza, più nausea e dolori gastrointestinali. Come stanno cambiando i sintomi del virus. Gli effetti stanno buttando anche in base all'età dei contagiati, molte sindrome simili influenzali, meno perdita di gusto e di olfatto. Questo è quello che ci dice il Corriere da Sera. Tra l'altro il Corriere da Sera ci dice pure che della morte di una ventisenni... No scusami, una ventisenni è in progno riservata a 16 giorni dalla dose. La giovane ha avuto una trombosi celebrale. Ma dice qui il Corriere da Sera non ci sono elementi per stabilire una correlazione. Se non ci sono elementi va bene. Invece il domani prende le difese in qualche modo di AstraZeneca come sta facendo ormai da parecchio tempo e mettendo in evidenza una cosa. Lo fa a pagina 4. Ora che sappiamo come evitare la trombosi usiamo AstraZeneca. Perché? Perché pare che si sia dopo lo stop. Andrea Casadio ci dice, che è un medico oltre che il giornalista, ci dice che in realtà si è capito che anche se si può interviene dopo i primi sintomi per evitare le conseguenze peggiori. Le indagini delle autorità nazionali che hanno voluto vederci chiaro sulle trombosi post vaccino hanno rivelato che gli episodi dipendono da autoanticorpi e quindi si possono evitare se i sintomi vengono curati in tempo. Questo non è un fatto da poco perché evidentemente non sarebbe a quel punto anche quella minima letalità non sarebbe una letalità. Questo sul domani. A questo punto prima di passare al tema riaperture, proteste e vi dicendo legato al tema dei vaccini, al piano pandemico e via dicendo ci sta il tema speranza. Qui succede che sul Corriere della Sera, pagina 5. Saludiamo Pizzati. Ecco qua, pagina 6, scusatemi. Speranza resiste all'assedio del centrodestra. Fare un passo indietro? Assolutamente no, ci dice Monica Guersoni nel suo retroscena. Ma sembra essere l'unico a crederci. Se andate sulla stampa ci sono due pagine che mettono in evidenza perché iniziano a girare queste voci sulle possibili passi indietro di Speranza. Pagina 6 e 7, emergenza coronavirus, il report censurato, le bugie di guerra, lo scandalo OMS lambisce Speranza. Il giallo del documento condiviso con le autorità italiane, il ministro fiducia nella magistratura e Draghi lo difende. Nella pagina accanto a Medeo Lamattina nel retroscena dice Salvini torna a chiedere il siluramento del ministro, non è all'altezza del suo ruolo e poi c'è un'intervista di Niccolò Carratelli all'ex ricercatore dell'Organizzazione Mondiale della Stabilità, Francesco Zambon, che dice che ci fu un accordo per insabbiare tutto, volevano proteggere il governo italiano. Tradita l'indipendenza dell'organizzazione. Insomma il tema è un tema indubbiamente aperto, se voi guardate il giornale ci va pesante, in prima pagina ci sono due retroscena senza un'inchiesta Draghi è costretta a tenere Speranza e poi a questo dia da Alberto Signore e poi Minzolini ma il centrodestra vuole la testa del ministro. Insomma andate nella pagina 2, Speranza tiene duro, fiducia confermata una settimana fa ma il centrodestra spinge per cacciarlo. L'ipotesi di mandarlo in Europa a trattare con le Big Pharma ma sarebbe uno sgarbo all'operato del precedente governo. Le manovre di Sileri per prendere il suo posto, un big di maggioranza per Super Mario non è un genio. Insomma vedete che il tema è abbastanza sviluppato. Ma a questo punto come ieri c'era un articolo di Conti che è quello che ha lanciato poi il tema della possibile sostituzione di Speranza, oggi bisogna andare su Repubblica perché c'è Folli che diciamo anche lui ricorda a pagina 27 nella pagina dei commenti ricorda che è stato difeso da Draghi eccetera 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 e dice però l'articolo del quotidiano riferito al messaggero è stato smentito immediatamente da Palazzo Chigi come era inevitabile ma intanto è ricominciato il waltzer politico e mediatico volta a sfruttare le difficoltà di Speranza. Senza dubbio la difesa che del ministro ha fatto il premier costituisce uno scudo ancora sufficiente a proteggerlo ma non si sa per quanto e si capisce questa volta non è Salvini o Giorgia Meloni dall'opposizione a criticare gli errori di valutazione veri o presunti nella lotta al virus. Stavolta le ombre vengono da eventi esterni che potrebbero lambire il ministro o magari alcuni dei suoi stretti collaboratori. In ogni caso si tratta di ombre che si allungano sul ministero. Andrebbero diradate in fretta e senza ambiguità prima che producano essi destabilizzanti. L'esecutivo delle larghe intese non è affatto per sopportare squilibri al suo interno. Tutti i ministri devono mostrarsi saldi nel loro ruolo, nessuno può indebolirsi troppo in conseguenza di errori o incidenti di percorso. Qui è l'aspetto tutto politico forse il più importante. Un'eventuale caduta di Speranza, oggi non all'ordine del giorno, avrebbe l'effetto di spostare il baricentro del governo. Salvini la presenterebbe come un fallimento della sinistra e quindi come uno slittamento complessivo a destra dell'asse politico. Il PD si troverebbe in qualche imbarazzo. Una delle ragioni per cui Speranza è rimasta al suo posto da Conte a Draghi è proprio la necessità di non smentire in modo plateale la gestione della campagna anti-covid. C'è stato già l'allontanamento dei commissari Arcuri e ricambio al vertice della protezione civile, garantendo una maggioranza bilanciata. Tutti sono consapevoli che stiamo vivendo settimane drammatiche tra le sofferenze sociali, il vaccino Johnson & Johnson bloccato e le pressioni per le riaperture. L'uscita di scena del ministro difficilmente sarebbe indolore. Non sorprende che Draghi voglia difenderlo, così la mette folli. Vedremo effettivamente che cosa accadrà. Riaperture, cambiamo capitolo. In questo caso si inizia a parlare. Vi ricordate che prima si era detto che non se ne parla prima di maggio, eccetera, eccetera, e le cose stanno un po' cambiando, anche perché forse le proteste che arrivano sono sicuramente un problema per il governo. Marco Galluzzo, a maggio via le riaperture, il governo studia le modalità. Il premier ha chiesto a CTS i protocolli per i settori, le regioni, i ristoranti anche la sera. Coprifuoco alle 24, che sarebbe una vera rivoluzione rispetto a quello che viviamo ormai da un anno. Pagina 6 del Corriere della Sera, che in particolare poi si occupa del turismo a pagina 9. Turismo in allarme, vaccinate i nostri addetti, assicurazioni senza penali e tamponi negli hotel, le strategie per rispondere alla concorrenza dall'estero. Questo è il tema della stagione estiva, e qui si parla della Cortina, mille stagionali in arrivo, funivie pronte a fine maggio, dalla Romagna, ombrelloni distanziati e campagna tv in Germania, a Venezia, a Biennale e Salone Nautico, via gli eventi in presenza, Firenze, museo scontatico e nuove app per scegliere i tour alternativi, Costiera Amalfitana, viabilità migliorata, le disdette USA preoccupano, Sardegna, slitta l'apertura degli alberghi, l'incognita degli ospiti, VIP, questo è il quadro che ci fa, vedremo che torniamo sul turismo poi tra poco, poi la Repubblica, pagina, le notizie sono tendenzialmente le stesse, ma la Repubblica oltre a darci le notizie ci dà anche un'intervista, che ora vedremo con la Germini, ma insomma, pagina Ettore Livini e Alessandra Paolini a pagina 6, in piazza, scusate, a pagina 7, Tommaso Ciriaco ed Emanuele Lauria, ripartenze è un segnale già dal 26, vedete che anticipiamo, e a maggio via le zone gialle, Draghi vorrebbe premiare le regioni più virtuose, speranza investire sul ritorno in classe delle superiori. E poi il PD che sta mutando anch'esso la posizione, dove possibile dal prossimo mese aperti bar e ristorante, coprifuoco si tratta, così la mette Repubblica che poi però a pagina 8 con Carmelo Lopapa intervista la ministra Gelmini, la quale dice in settimana l'agenda delle riaperture, no alle isole covid free, e tra l'altro dice la del Gelmini, l'impatto di Johnson non è determinante nell'immediato, se non facciamo errori la stagione estiva sarà salva, e peraltro in giugno arriverà il pass vaccinale, ma basta polemiche, su speranza non esiste un partito delle chiusure. Insomma, vedete che la Gelmini al governo fa anche una certa impressione, vedere e difendere il ministro Speranza, ma è giusto così, d'altra parte questo è un governo, chiamatelo di unità nazionale, chiamatelo come volete, ma insomma è un governo dove ovviamente si cerca di tenere in equilibrio il tutto, ci sono il ruolo delle regioni, è quello che Grazia Longo sulla stampa mette in evidenza, le regioni ritornano alla carica, ristoranti con The Hors aperti la sera, i governatori dicono ripartiamo con palestre e cinema, da Giorgetti a Gelmini riaperture a maggio. Oh, e qui poi c'è un tema che vedremo anche su altri giornali, la svolta sugli europei, tre partite col pubblico per la nazionale, il CTS prende tempo, ma il Premier forza la mano e salva i match in Italia, perché il che è successo è che se non ci fosse stata la decisione affermata che ci sarebbe stato il pubblico negli Stati, ancorché ridotto, non avrebbe fatto svolgere gli europei a Roma, che mi pare siano a giugno o quando è, il che diciamo ha creato un qualche contraccolpo, perché tutti gli altri dicono, e vabbè, e noi, allora il giornale in prima pagina, un calcio al virus, via libera del governo, tifosi allo Stato a giugno e per gli europei, e dice ma per ristoranti e spettacoli all'aperto si tratta, i medici non allentare le misure, poi se andate a pagina 4 e il calcio riapre ok agli europei con 16.000 tifosi all'Olimpico, decisiva la spinta di Draghi dopo il tentativo di Erdogan di sfilarci l'evento, ammessi solo vaccinati con tampone negativo o già guariti la serie A, mille persone alle ultime partite, e insomma, se poi andate a pagina 5, il giornale si occupa anche di quello che potrebbe accadere sulle altre cose, attività all'aperto, il sì dei virologi, il piano convince persino Speranza, Burioni, il primo a sottolineare i rischi inferiori, seguito con cautele da Menichetti e Pregliasco, sintonia trasversale della politica, Giorgetti decideremo la prossima settimana in CDM, l'abbiamo visto già nei giorni scorsi e lo vedremo tra poco, questo è il tema, cioè quello che all'aperto praticamente il virus non si becca, si becca molto di più al chiuso, addirittura c'è chi sostiene che all'aperto è inutile la mascherina, mentre al chiuso la mascherina non è sufficiente. Se andiamo sul tempo a pagina 3, appunto su questo si spacca il fronte dei virologi, Burioni spiazza i colleghi più rigidi, facciamo ripartire subito bar, ristoranti e teatri all'aperto, anche le regioni al governo riaprire all'esterno sia a pranzo che a cena e il PD inizia a fare mia colpa, sia date irrevocabili, insomma il contagio secondo Burioni per chi sta fuori è raro, con la bella stagione non mi dispiacerebbe assistere a un concerto col cappotto. Poi però vengono riportate anche Dario Martini che scrive sul tempo, dice che nell'esecutivo si sta iniziando a ragionare di spostare il coprifuoco in avanti dalle 10 di sera alla mezzanotte, che è una rivoluzione per la semplice ragione che significa che si può andare a cena fuori come normalmente intendiamo andare a cena fuori, cioè andare magari alle 20, alle 21, alle 21 e 30, addirittura alle 22 e poi si torna a casa diversamente, per tornare a casa col coprifuoco alle 10 devi andare a cena alle 7. Va bene, o perlomeno quelli come me. Messaggero, addirittura diciamo il titolo di apertura, a giugno si torna allo stadio, via libera del governo agli europei di Roma, per Italia e Turchia, ammessi 18.000 spettatori, piscine e palestre, ripartenze a maggio, ristoratori e ambulanti blocca, e questo l'abbiamo visto, lo vedremo anche dopo. Se andate poi a pagina 6 ci si occupa di un altro pezzetto, segmento, che è quello del turismo che abbiamo visto prima, ed è lo scenario rispetto all'estate, il piano spiagge sicure, sanificazioni, tracciamento e ombrelloni distanziati. E c'è Bernabò Bocca, che è il presidente di Fede d'Alberghi, che dice, prevediamo subito alberghi covid free, il pass vaccinale siamo già in ritardo. Il presidente della Fede d'Alberghi dice, la gente vuole prenotare ora, per luglio e agosto, servono regole certe. Questo è quello che ci ricorda il messaggero. Ma a questo punto vi voglio leggere l'editoriale di Sallusti sul giornale, che la mette così certezze per tutti, non solo al pallone. Potenza del calcio, prima che per i ristoratori, cinema e teatri, le palestre e chi più ne ha più ne metta, il governo ha deciso la data della riapertura al pubblico per gli stati. Sarà 11 giugno, partita inaugurata all'Olimpico di Roma dei campionati europei di calcio. Senza il via libera anticipato, l'Italia rischiava di perdere questa importante vetrina, quindi diciamo che abbiamo ceduto a un non celato ricatto dell'UEFA, l'organismo europeo del pallone. Quel giorno all'Olimpico convergeranno quasi 20.000 persone, un quarto della capienza, che come assemblamento non è male. Logica vuole che per quella data sia previsto un inatteso libera a tutti, a prescindere dalle curve del Covid e delle vaccinazioni, o forse già oggi chi di dovere sa che a giugno la situazione sarà ben diversa dall'attuale. Ma se ci sono previsioni così certe, perché non dire chiaramente quando potranno riaprire altre attività, magari meno nobili di quella pallonara, ma vitali per milioni di italiani, non è giusto che solo i calciatori e il business del loro mondo possano vivere di certezze e programmare il loro lavoro. Non crede il governo che analogo trattamento meritano anche altre categorie? Se si può dire quando riapriranno gli stati, immagino che salvo imprevisti importanti, la stessa cosa si possa fare per i negozi, ristoranti, musei, che non hanno certo il potere e le conoscenze autolocate dell'UEFA, ma contribuiscono al PIL italiano in misura assai maggiore. Perché i casi sono due. O il problema è sanitario e allora nessuno può garantire nulla con due mesi di anticipo, oppure è politico e allora parliamone. Se il ministro Speranza non obietta su 20.000 persone all'Olimpico, deve spiegarci perché non permette, né ci dice con certezza, quando permetterà a 20 persone di sedersi distanziate con mascherina ai tavoli di una trattoria all'aperto, perché non ha le stesse condizioni nella sala di un cinema o nel salone di un parrucchiere. Il calcio è uno sport meraviglioso, ma purtroppo non si vive di solo calcio, anche se fosse vero, come si usa dire, che il pallone è il moderno più dei popoli. Ognuno la sua droga, noi siamo per quella della libertà di lavorare. Nessuno vuole essere incosciente ma neppure passare per il fesso di turno. Insomma è complicato dare torto a Sallusti nel ragionamento al di là delle battute. Bene, passiamo al capitolo delle proteste. Qui insomma un po' tutti i giornali dicono le stesse cose. Vediamo per comodità il Corriere della Sera a pagina 11, a pagina 8, proteste di autostrade bloccata, subito una data certa per ripartire. Vedete che questo è proprio la conseguenza o la causa dell'editoriale di Sallusti. Manifestazione a Circo Massimo sulla Roma-Napoli, la sottosegretaria Bergamini incontra una delegazione. Poi ci sono le cose di Giovanni Favia di Bologna che dice violenza sbagliata, senza organizzazione non vado più in piazza, evidentemente in relazione agli incidenti che ci sono stati. Umberto Carrera di Pesaro, io negli weekend apro, ho già 28 multe ma vincerò i ricorsi. Insomma questa è la scommessa che fanno quelli che protestano. Tema affrontato anche dalla Repubblica a pagina 6, ma veramente vediamo soltanto al volo queste notizie. In piazza baristi, balneari e chef, ora basta, vogliamo una data. Il rappresentante dei locali da ballo dice non chiedo ristori ma un futuro per le mie figlie. La stampa, e chiudiamo, la mette così per avere un quadro insomma un po' generale, a pagina 5, eccola qua. L'ira dei commercianti in piazza ci hanno lasciato in mutande. Alta tensione davanti a Montecitorio, pacifici ma testimoniano del disagio. A casetta gli ambulanti bloccano l'autostrada. E poi c'è un'intervista al presidente Confcommercio Sangalli, mai più chiusure, negozi e imprese sono allo stremo. Bene il passaggio da ristori e sostegni, ma gli indennizi devono tenere conto di ricavi in calo e costi fissi. Questo è quello che dicono coloro che protestano. Cosa si fa nel medio periodo o comunque nei provvedimenti di prospettiva? Allora qui abbiamo il tema del recovery. Sul recovery voglio segnalarvi il domani in prima pagina che mette in evidenza un recovery bis in qualche modo, un bad recovery. Arriva il recovery degli scarti, miliardi di nuovo debito per i progetti che l'Unione Europea non vuole. Giovanna Fagionato dice che il governo prepara un fondo da 20-30 miliardi per integrare i soldi europei e realizzare anche le grandi opere che non si riescono a completare entro i termini stabiliti da Bruxelles. È il caso dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Questa è la notizia che ci dà il domani. A proposito di recovery voglio segnalarvi sulla stampa un articolo editoriale di Profumo, di Alessandro Profumo, pagina 21, che come sapete è il presidente della compagnia di San Paolo, che dopo aver spiegato come arrivano i soldi e tutte le cose che ha fatto l'Unione Europea, dice che all'interno del Next Generation Yule Recovery and Resilience Facility è un dispositivo temporaneo, non un fondo, ed è lo strumento più importante finanziario dell'NGEU. 672,5 miliardi di euro da distribuire ai 27 paesi dell'Unione tra il 21 e il 26 finalizzati a sostenere le riforme e i progetti degli Stati membri allo scopo di attenuare l'impatto a livello sociale ed economico della pandemia per rendere le economie più sostenibili, resilienti e meglio preparate per le sfide poste dalle transizioni digitale e verde dei prossimi decenni. Di questi 312,5 miliardi sono per sovvenzioni a fondo perduto e la restante parte, come sappiamo, 360 miliardi sotto forma di prestiti a tassa agevolato da restituire dal 2028 al 2058. Per l'Italia, come noto, sono a disposizione circa 209 miliardi da Next Generation Yule, 27,8% del totale a livello europeo. Di questi 193 miliardi provengono da RRF e il resto da altri programmi. È una mossa senza precedenti, aiuterà il continente ad affrontare le sfide economiche e sociali che stiamo attraversando nei settori prioritari, salute, occupazione, istruzione, ricerca e innovazione, ma anche a costituire infrastrutture materiali e immateriali per il futuro e migliorare la competitività e produttività del nostro sistema economico e i servizi della nostra pubblica amministrazione. La Commissione europea nel processo di approvazione dovrà valutare anche per il PNR dell'Italia, come per tutti i PNR degli Stati membri, non solo la pertinenza del piano, ma anche la sua efficacia, efficienza e coerenza declinate attraverso una serie di criteri specifici. Affinché il piano sia approvato è necessario che per ben sei criteri su 11 ciascun Paese ottenga la massima valutazione. Per quanto riguarda la pertinenza, tra i sei criteri di valutazione è molto rilevante quello declinato in cambiamenti e riforme, piattaforma di iniziative e riforme necessarie per migliorare le debolezze del Paese. Il calendario è stretto. Se il PNR sarà approvato nei tempi previsti, i primi finanziamenti della Commissione arriveranno già nel corso del 2021, con un anticipo pari al 13% del valore complessivo e le rate successive a stato di avanzamento. Per quanto riguarda gli impegni degli Stati membri, gli importi, fondo perduto e prestiti dovranno essere impegnati entro il 2023 e relativi investimenti essere realizzati entro agosto del 2023. Il nostro Paese sarà in grado di vincere la sfida delle riforme, della velocità e del rispetto della programmazione dei progetti? Non c'è scelta e saranno i posteri a giudicarci. Ora però una cosa è chiara, nessuno potrà rinunciare a impegnarsi in questa partita della nostra vita. Così profumo sulla stampa a proposito del recovery. C'è il tema sanità e qui è interessante prendere il sole 24 ore perché voi avete visto che Italia Viva ha lanciato con Renzi e la senatrice Parenti il piano per la sanità 2030. Qualcosa si muove in qualche senso, vado su Corriera Sera e che ci dice in primo piano le misure per la ripresa, i fondi strutturali che sono 43 miliardi, fondi dell'Unione Europea 600 milioni alla sanità, la spesa 2021-2027 dice 10 programmi, scrive Giuseppe Chiellino sulle 24 ore 10 programmi operativi nazionali, la dota è di 24 miliardi ma la razionalizzazione chiesta da Bruxelles non c'è stata, raddoppia il programma per le città metropolitane che viene esteso ai capoluoghi di medie dimensioni. Insomma i fondi UE, fondi dedicati anche alla sanità in particolare dice nel documento all'esame della commissione UE ci sono anche altre rilevanti novità, la prima a cui tiene molto la Ministra per il Sud Mara Carfagna è il programma salute, avrà una dota di circa 600 milioni per finanziare tecnologia digitale e servizi per l'omogenizzazione delle prestazioni sul territorio e il contrasto alla povertà sanitaria, la gestione sarà del Ministero della Salute con l'affiancamento dell'Agenzia per la coesione, quest'ultima continuerà ad avere la responsabilità del PONmetro che finanzia progetti nelle 14 città metropolitane con diverse novità. Va bene, insomma questo è quello che ci dice il Sole 24 Ore che ci sono fondi anche sulla sanità. Nel frattempo però che cosa accadrà? Qui c'è il tema dello scostamento prossimo, si fanno cifre diverse della presentazione del DEF. Cominciamo dal Corriere della Sera a pagina 11, sostegno e crescita lo scostamento verso i 45 miliardi e Visco che il governatore della Banca d'Italia dice che il PIL in Italia andrà a più 4%. L'ipotesi di raddoppiare ristori a 20 miliardi chi ha avuto 2.000 euro ne prenderà 4.000. Questa è la risposta che in qualche modo il governo pare voler dare anche a chi sta protestando e venire incontro anche alle richieste di chi sta protestando, non solo con le riaperture ma anche con i ristori. Se andiamo sulla Repubblica Roberto Pedrini ci dice che nei piani del governo c'è alle imprese 35 miliardi di sostegni, aumenteranno i prestiti garantiti. Oggi il Consiglio dei Ministri inforse il via lo scostamento di bilancio per il 2021 e qui anche Visco che dopo nel taglio basso vi segnalo che c'è un articolo di Aldo Fontanarosa che dice Colao il diritto a internet andrà in Costituzione ma è allarme per i cyberattacchi. L'esecutivo si impegna a portare la fibra veloce a tutte le famiglie italiane entro il 2026. Questo sulla Repubblica. Andiamo avanti perché c'è la stampa a pagina 17. Raddoppiano i sostegni alle imprese, piano da un miliardo per le assunzioni. Prosto lo scostamento da 40 miliardi l'esprime il governo nel DEF, crescita oltre il 4% nel 2021. Quindi vedete che vengono messi insieme scostamento e DEF perché le cose dovrebbero andare di pari passo. Il tempo, il piano draghi per le imprese. Ecco tutte le misure in arrivo per rilanciare le aziende. Contributi a fondo perduto, alle attività commerciali per pagare affitti e bollette. Niente tari, IMU e TOSAP anche per il 2021. Stop cartelle a chi è in crisi. Aumenta il limite ai prestiti garantiti dallo Stato, sarà oltre 30 mila euro. Questo è quello che ci dice il tempo in prima pagina che viene ripreso poi a pagina 5. Meno tasse e bollette, il piano per le imprese. Con questo chiudiamo anche questo capitolo e ci occupiamo del governo perché voglio segnalarvi la Ghisleri che ha un sondaggio sulla stampa che ci dice Premier in calo, Salvini in crisi. Se andiamo a pagina 9 dove viene riportato il sondaggio si raffredda l'entusiasmo per Super Mario. Fra i ministri vincono Franceschini e Giorgetti. La fiducia in Draghi è ancora alta ma in calo. Tiene il gradimento dei tecnici ma i nuovi sono poco conosciuti e qui ci sta se vi interessa il gradimento dei ministri, la fiducia. Dario Franceschini è al primo posto con una notarietà dell'89,4%. Il gradimento per Draghi, questa è la cosa che ci può interessare, è che passa dal 52,7% e precedentemente non vedo adesso... Comunque, va bene insomma, c'è sicuramente un calo di Draghi, scusatemi. E poi nella fiducia dei leader Salvini perde il 2,5%, Renzi lo 0,6%, Meloni lo 0,8%, Calenda lo 0,6%, Berlusconi l'1,3%, Conte guadagna l'1,6% e Enrico Letta guadagna il 3%. Va bene, questi sono gli esiti del sondaggio della Gislei sulla stampa, ma allora a proposito del governo, vedete che Conte sale nei sondaggi avvicendo, però c'è un imperdibile editoriale di Salvatore Merlo sul foglio che riguarda il complotto, ed è il complotto non solo quello che avviene Bettini, ma che vedremo poi, diciamo, non è condiviso pare da una parte del PD sostanziale, ma anche quello che avviene Travaglio. Scrive Merlo, poiché da sempre il complotto è il più banale rifugio del cretino, nonché il più cretino dei rifugi, Giuseppe Conte evita di parlarne personalmente e lascia che siano camerieri e palafrenieri a raccontare le ore della sua caduta di Palazzo Chigi come un tranello, un piano diabolico, quasi un colpo di Stato, ed è infatti in arrivo a questo proposito un libro di Marco Tavaglio, lui che lecca i fatti per osservarli meglio, slurp. L'ex presidente del Consiglio ha ritegno e asseconda in silenzio la teoria del complotto fatta proprio persino da Goffeto Bettini, e forse qui un po' di autocritica sulle esaltazioni di Bettini, il giornale dove scrive Merlo la dovrebbe fare. Un'idea da serie tv ci penserà a Discovery o Disney Channel, che adesso sta per assumere le sue giuste dimensioni di patacca giornalistica con l'impegno del mitologico travaglio, il più grande segugio d'Italia, quello che subito capì Raffaele Marra e la Corte dei Miracoli di Raggi a Roma, infatti garantì per Marra poco prima che venisse arrestato, insomma uno al quale non gliela si fa. Così il direttore del Fatto da alcuni giorni prenota interviste e fa domande a ministri d'ex ministri del PD e dei 5 Stelle che tra di loro ne parlano. Ma t'ha chiamato pure a te? Ma che vuole? Sta scrivendo un libro? Sì, sul complotto internazionale contro Conte, e qui alcuni alla parola internazionale scoppiano a ridere, poveri sciocchi. Ridono come un tempo ridevano di Renato Brunetta quando con spontaneità da rete denunciava il complotto di banchieri e mercanti contro Silvio Berlusconi nel 2011, quello che in pratica il Cavaliere si era fatto da solo. Anche Brunetta ci fece un libro, e insomma trattano Travaglio come fosse il Brunetta di Conte, nel senso che anche lui è già pronto e non serve nemmeno scuoterlo prima dell'uso, solo perché intende battersi con decisione in piedi sulla graitta in mezzo alla genuflessione generale per svelare quel torbido intreccio di interessi politici e imprenditoriali, nazionali e internazionali, massonici e plutocratici, romani ed europei, mondiali e marziani che hanno diabolicamente determinato la fine del bisconte e l'arrivo di Draghi. Travaglio scava e rivela, si sa, passa all'umino ogni fatto solo apparentemente chiaro della storia e della cronaca. Basta scorrere i gretestizi di questo fenomeno autodefinitosi allievo di Montanelli, dal Bidberg a JP Morgan, dai vaccini alla trattativa Stato-mafia, fino all'axilella, la malattia aboricola a lungo denunciata dai travaglioni come un esempio di complotto delle multinazionali. Gli alberi morivano per un batterio e quelli se la prendevano con la cura. Lì erano le olive, qui è Conte, ma la sostanza cambia poco, qualcosa non torna. Conte non cadde perché non riuscì a trovare responsabili. Eh no, troppo facile. Chiedete a Marco, lui i fatti li inumidisce per piegarli meglio. Così c'era, scusatemi, Merlo sul foglio. Bene, chiudiamo anche questo, passiamo alla PD. Insomma, il PD, vediamo Repubblica a pagina 12. Allora, diciamo che in realtà il tema del PD... Ah sì, ecco qui. Conte gadde per interessi internazionali. Gelo del PD sul manifesto di Bettini. Dal Nazareno alla replica, quello di Draghi è il governo del partito di Letta. Nessun dubbio. E insomma, diciamo che questo complotto internazionale di Bettini fa un po' ridere, diciamo, la verità. E d'altra parte che Letta diciamo non l'abbia preso molto sul serio, lo dice lo stesso foglio. In prima pagina Letta quale golpe, il segretario Demme risponde a Bettini, Conte è caduto perché non aveva i numeri. E insomma, no, però... D'altra parte questo amare, l'amore sintonia ormai tra Bettini e Travaglio e tutta la combricola, diciamo, non è una cosa poco rilevante. Però per quanto riguarda il PD, vi devo segnalare sempre da Repubblica, un'intervista a pagina 21 a una new entry che è berruto. Adesso mi sfido in politica, ma dentro resto un coach, operaio. Intervista all'ex CT del volley, chiamato da Letta al PD. Dice, vorrei lo sport nella Costituzione, l'agonismo è una forma d'arte, anzi di più perché non ho mai visto la gente far festa per la Gioconda. Questa affermazione, diciamo, va bene. Nella Costituzione ci si vuole mettere di tutto, ci metteremo pure lo sport e andiamo avanti. Segnalo il riformista perché? Perché riporta una intervista alla Urbinati, diciamo che anche questa, vedete, farà discutere. Nadia Urbinati, intervistata da Umberto De Giovannageli, Draghi un tecnopopulista, non è questo il governo del PD. Il rapporto con i 5 Stelle, se si sceglie il maggioritario, come vuole Letta, con il 20% non può andare alle elezioni da solo. Vogliamo allearci con Salvini e Meloni? Credo proprio di no. Beh, su cosa intervista la Urbinati? Chi vuole se la può vedere sul riformista e chiudiamo con invece un tema che è, lo riprendiamo da Corriere da Sera perché ci porta ad un altro tema che vedremo tra poco, che è a pagina 13, e cioè il tema del PD e delle amministrative, in particolare Roma. Ed è all'estrando Trocina, a pagina 13 del Corriere da Sera, PD rebus primaria a Roma. No di calenda, il leader di azione avanti da solo, loro stanno con Conte e Raggi non cede accusa. No agli accordi di palazzo, pressioni e proposte per farmi fare un passo indietro. Ai gazebo per ora, Gualtieri e altri quattro, ma nessuna donna. Eccoci, bene, però ci abbiamo i capi gruppo donna. Ma no, tutto questo Roma viene affrontato anche da altri giornali. Per esempio, la Repubblica a pagina 12 ci dice Roma pressing su Zingeretti, l'ostacolo si chiama Raggi. La sindaca dice mi hanno offerto di tutto per convincermi al ritiro, l'ex leader Dem in testa ai sondaggi resiste perché non vuole fare campagna elettorale contro i 5 stelle dopo aver difeso un'alleanza con loro. Eh, guarda un po', sì, è una piccola contraddizione sarebbe nel caso dunque. Ma andiamo avanti perché c'è anche la stampa a pagina 8 che ci dice, intervista a calenda, a Roma posso vincere, non mi ritiro, ma sono pronto all'accordo col PD. Il candidato sindaco di Roma dice, letta parla di primarie, però lui e Conte provano a far desistere la Raggi. Insomma, questo è quello che dice Calenda, stavo guardando, mi era sfuggito, forse dobbiamo sorbire anche un libro di Battista, l'ennesimo, Dibba, un libro dall'esilio, Draghi è come i Benetton. Bene, bene, il piatto si arricchisce, saremo veramente curiosi di vedere tutte queste cose, ma ritorniamo su Roma, quindi abbiamo visto un'intervista a calenda, segnalo il foglio nella pagina 2 con un sempre informato articolo di Marianna Rizzini, le dichiarazioni di guerra di Virginia Raggi, le regole sono le nostre, il bis a Roma, mi hanno offerto di tutto per un passo indietro. Insomma, vedete che queste cose poi tornano per chiudere con Roma, però c'è anche un problema che riguarda il centrodestra, lo solleva Alessandro Giuli sul tempo a pagina 9 perché il centrodestra scelga i sindaci o perderà una partita fondamentale, non decidere in tempi brevi sarebbe uno sciagurato regalo a 5 Stelle e PD. Il voto nelle città sarà il prorogo delle elezioni anticipate post Covid dell'anno prossimo. Ecco, questo poi che ci saranno le elezioni anticipate, lo vedremo, non ci metterei proprio la mano sul fuoco. Chiudiamo con Roma, abbiamo ancora il Movimento 5 Stelle, qui vi segnalo una pagina intera del giornale, la pagina 12, nella quale il Movimento 5 Stelle finisce in tribunale e un avvocato sardo adesso dice comanda i grillini. De Murtas è nominato curatore speciale e dice in caso di consultazioni salerei io al collander. Questa sarebbe una scena veramente divertente. E poi nel taglio basso rissa tutto campo al Movimento, Travaglio si schiera contro Casaleggio, il direttore del fatto non spetta a lui decidere ma il guru avverte Grillo e Conte fatti debiti per pagare le spese legali. Va bene, questo è il 5 Stelle, chiudiamo qui la parte politica attuale, vi segnalo sul Corriere della Sera una bella intervista di Walter Veltroni a Guido Bodrato, uno dei leader della democrazia cristiana degli anni 80 e 90 e veniamo alla giustizia. Palamara, cominciamo da qui, Stefano Zurla in prima pagina, insabbiano il caso Palamara, ah scusate sul Movimento 5 Stelle vi segnalo, non ho il tempo di leggerlo ma un editoriale di Polito sul Corriere della Sera, molto interessante e anche molto duro, si riferisce al fatto che si fa un paragone con vicende passate, insomma interessante, potete leggerlo. Dicevo Palamara, il giornale Zurlo insabbiato il caso Palamara si dimette il capo dell'ANM, se si va a pagina 13, gli omissis dell'ANM nelle chat di Palamara, ora il capo si dimetta a parlare chi è Giuliano Castiglia che è GIP a Palermo, ha pure sbianchettato un nome dal dossier e dice che hanno paura che si vada troppo in là toccando gli assetti di potere, ancora dice per mesi abbiamo chiesto in vano di acquisire i documenti. E insomma sui documenti adesso vedete perché ci stanno delle novità che ci arrivano dal riformista, anzi ci arriviamo subito, voglio segnalarvi il foglio a pagina 4 con una risposta di Cerasa a Frank Cimini che pone il problema che alla fine è tutta colpa Palamara di tutto e risponde così Cerasa, se questo è l'andazzo alla fine CSM considererà Palamara responsabile anche per i contenuti deliranti del libro di Angelo Giorgiani, libro da cui si sono dissociati tutti persino Nicola Gratteri ma di fronte al quale CSM ancora una volta sembra avere tutta l'intenzione di voler fischiettare. E fischietta il CSM ma soprattutto secondo Paolo Comi fischietta la procura di Perugia. Dottor Cantone, titolo di apertura, controlli il file 155-73-27812. Forse è quello della cena con Pignatone, scrive Comi. ID 155-73-27812 è questa la sigla di un file che deve essere da qualche parte e che con ogni probabilità contiene la registrazione effettuata dal famoso Trojan Palamara in quella celebre cena del 9 maggio della Mamma Angelina a Roma, zona Parioli, nella quale lo zar delle nomine, appunto Palamara e l'imperatore della procura romana Giuseppe Pignatone si incontrano e discussero del futuro degli assetti di potere della magistratura italiana e in particolare della nomina del successore di Pignatone. La procura di Perugia continua a dire che quel file non è mai esistito perché la cena non fu registrata dal momento che si era saputo che la cena sarebbe avvenuta alla presenza delle mogli dei magistrati. Ma non è così perché di quella cena e delle mogli si seppe solo in un'intercettazione precedente alla cena, che però fu sbobbinata solo quattro giorni dopo. Dunque, con ogni probabilità, la cena fu intercettata e leggere quella intercettazione potrebbe costituire una svolta nella decifrazione di tutto il Paramara Gate. Siccome la procura di Perugia non la trova, veniamo in aiuto noi, consigliandogli quello che con buone probabilità è il numero del file che contiene la preziosa registrazione. Ripetiamo per evitare errori. ID 1557327812. Così sul riformista vedremo che succede. Sul tema dei vitalizi c'è stata ieri una decisione finalmente presa dall'organo del Senato che doveva decidere e ce lo dice il Corriere della Sera, non solo il Corriere della Sera, ma pagina 12, vitalizia Formigoni del Turco riparato un errore. Ira del Movimento 5 Stelle. La scelta del Senato nella Commissione formata da un parlamentare azzurro e due leghisti. E quindi pare che questa decisione sia da quello che si capisce in qualche modo definitiva. ci sta il tema dell'ergastolo, su questo voglio segnalarvi il domani e il riformista. Il domani perché? Perché a pagina 6, vi ricordate l'ergastolo stativo che è quello che interviene quando chi è condannato a pene gravi, l'ergastolo, ma anche pene di decenni e via dicendo non collabora, non può utilizzare i benefici premiali, carcerari e via dicendo. Lo può fare solo chi collabora. E cosa ci dice però nell'otrocchia pagina 6 del domani? Il, virgolette, pragmatismo criminale, chiuse virgolette, dei boss per evitare l'ergastolo. I vertici dei clan temono di essere condannati a vita senza poter ottenere i benefici di pena. Così praticano la, virgolette, dissociazione morbida, ammettono gli omicidi e intanto continuano a comandare. Ecco, diciamo, questa cosa del gastolo stativo è una cosa sulla quale poi si dovrà decidere anche la Corte Costituzionale, sulla quale è intervenuta la Corte Europea, ma dal riformista voglio segnalarvi una cosa che farà rumore, perché Piero Sanzonesti dice Basta, liberate Moretti e Tuti. La maggior parte dei parlamentari che oggi siede alla Camera non era nata o andava alle elementari quando furono arrestati il fascista Mario Tuti e poi il comunista Mario Moretti. La maggior parte dei magistrati che oggi giudicano forse andava alle medie o al liceo. Da allora Tuti e Moretti hanno sempre dormito in cella. Mario Moretti è stato un personaggio importantissimo, tragicamente importante negli anni 70 perché ha guidato una formazione sovversiva e potentissima come le Brigate Rosse che riuscì a terremotare e a condizionare la politica italiana, a devastare la democrazia cristiana a mettere alle strette il Partito Comunista. Seminò morte, uccise e condivise omicidi e rapimenti. Anche Tuti, che ebbe un ruolo molto minore nella politica italiana, si macchiò di terribili delitti. Oggi sono due persone completamente diverse da allora. Dobbiamo lasciare che muoiano dietro le sbarre dobbiamo fare in modo che lo Stato si dimostri feroce e vendicativo e che nella sua ferocia di e trovi la giustificazione della ferocia di allora. Uno Stato liberale non è spietato e non confonde mai la giustizia con la ritorzione e la revanche. 40 o 45 anni di carcere sono uno sfregio allo senso del diritto. Moretti e Tuti non costituiscono nessun pericolo per la società. L'ergastolo è un abominio. L'ergastolo è il passato. Dimentichiamocelo. Così sul riformista Sanzonetti. Sanzonetti. Il domani si fa carico di capire che cosa è successo nella procura anche rispetto a Riace. Le intercettazioni servivano a smontare il modello Riace. La procura di Locri ha ascoltato per mesi le conversazioni della rete di Mimmo Lucano, l'ex sindaco che proponeva un modello di accoglienza dei migranti opposto a quello elaborato dai governi Renzi e Gentiloni. Esclusivo i nomi nelle cartelle dell'inchiesta. Xenia. Vedete che quando c'è l'intercettazione dei giornalisti e compagnia bella c'è una particolare sensibilità ed è giustissimo da parte dei giornalisti. Segnalo sul riformista, andiamo alla chiusura, a pagina 6, la proposta di commissione di inchiesta sul Togagate. Aldo Tocchiaro che ce ne parla. Commissione sul Togagate. Alla Camera si può fare. Oltre a Forza Italia, Lega e Fratelli Italia, anche i renziani chiedono di indagare sul sistema denunciato dal libro di Palamara. La dura contrarietà del Movimento 5 Stelle e, indovinate un po', dei dem. La proposta del centrodestra e d'Italia Viva. Così la mette sul riformista Tocchiaro. Penso che la proposta di Italia Viva, quindi è una proposta che ho presentato io, penso e spero che sia condivisa anche Italia Viva, ma non saprei dirvelo. Vi segnalo che sulle case dell'Inps continua la denuncia con altre quattro pagine di Libero e vi segnalo dalla stampa che ci sono due donne che vengono alla ribalta, scusate, ce lo dice a pagina 12, la stampa che sono Baloul, ora a Parigi ha la sua prima iman, l'Islam è la libertà e si chiama Caina Baloul e invece Galloni, un'italiana direttrice di Reuters, è l'ora delle donne. Non è così la stampa. Poi vi segnalo che a proposito di telefoni sotto controllo, la Repubblica, pagina 19, con Luigi Manconi, un'intera pagina in cui ci segnala e ci racconta che padre Zerai, il telefono dei migranti nell'attrita carne delle intercettazioni, il suo numero è nei cellulari dei disperati, ma nel 2017 è stato messo sotto controllo dalla procura di Trapani. Ecco chi è il sacerdote eritreo che con l'avallo del Vaticano salva le persone in fuga. Vedete, Trapani ha l'intercettazione facile. Vi segnalo che la Repubblica, a pagina 13 invece, ci dice che ci stanno le indagini su mobi, sui soldi ai partiti, da Grilla a Casaleggio a Fratelli Italia e al PD. E come potete immaginare non manca anche Renzi, cioè il faro dei PM di Milano, scrivono Sandro De Riccardis e Luca De Vito, anche sulle donazioni alle fondazioni di Renzi e di Toti. Vi segnalo la vicenda allucinante che abbiamo già visto ieri della cocaina messa da un vigile nella macchina di un altro vigile per impedire che diventasse capo dei vigili di non mi ricordo quale paese nel Lombardo. C'è la notizia fondamentale del prete che decide di spretarsi e si sposa e oggi è data con grande rilievo su tutti i giornali, ma in particolare su Corriere della Sera e auguri figli maschi. Per quanto riguarda Alitalia vi segnalo il messaggero a pagina 15, Alitalia l'ombra della condanna per aiuti di Stato sul negoziato, Bruxelles fa trapelare che la sanzione da 1,3 miliardi arriverà entro fine aprile. Per quanto riguarda autostrade, a pagina 14 Perez stringe i tempi per presentare l'offerta vincolante. Se poi invece volete sapere qualcosa sull'Ilva andate sulla stampa a pagina 10 perché io licenziato dall'ex Ilva per un like ringrazio la Ferilli, ma vinco da solo perché la Ferilli si era detta disponibile a pagare il ricorso contro il licenziamento di questo operaio dell'Ilva. Invece a pagina 23 di Repubblica Ilva sulla di Morselli il fuoco incrociato di sindacati e politica la crisi di Taranto. Chiudiamo con i Notav che in tutti i giornali, la stampa in particolare a pagina 11, ci danno la notizia che barricate lacrimogene e feriti ripartano a guerrire dei Notav, battaglia in Val di Susa contro il cantiere dell'autoporto, vicequestore in ospedale. Per quanto riguarda la politica estera, vi segnalo che il Sole 24 ore ci dice che le criptovalute sono all'esame di Wall Street, maxi quotazione da 100 miliardi e per rimanere poi sulla Wall Street, sull'America e sulla politica estera ci sta Biden che da una parte annuncia che l'11 settembre andrà via dall'Afghanistan e che allo stesso tempo propone a Putin di incontrarsi sulla questione ucraina, la stampa a pagina 14 e 15 si occupa di queste cose, c'è tutto il tema del Giappone che vuole scaricare l'acqua radioattiva nel mare e fa arrabbiare la Cina e non solo, su Corea Sera a pagina 15 e dalla Repubblica a pagina 16, l'avevamo già visto nei giorni scorsi ma ci risiamo e questa è una cosa che andrà tenuta sotto controllo, i bambini della pace che incendiano le notte di Belfast, tra i ragazzi nati dopo gli accordi del venerdì santo che hanno messo a ferro il fuoco la città, gli unionisti norlinandesi si sentono traditi da Londra e accerchiati dai cattolici, la colpa è della Brexit, questi sono i danni della Brexit, con questo chiudiamo la segna stampa, se volete ci vediamo domani alle 7 e mezza, buona giornata a tutti.